Ciao ragazzi, bentornati su The First Responder. Ho scritto su qualche chat in merito all'incidente quella venuta a Roma dove muore il bambino di 5 anni, il piccolo Manuel. Innanzitutto un abbraccio ai genitori, è una cosa terribile e non è assolutamente immaginabile, quindi rispettiamo questo dolore. In merito a tutto ciò che si è stato detto e ciò che ho sentito fino adesso, pensavo di poter dire la mia da soccorritore e da papà. Per quanto riguarda la questione da soccorritore mi sembra abbastanza evidente. La affiancata dell'auto è rientrata di un metro, signori, è rientrata di un metro, la potenza di impatto è elevatissima, i veicoli sono ancora vicini, l'energia si è sprigionata tutta in quel punto. Macchina SUV, macchina pesante, sicuramente ha una certa velocità, quell'impatto non lo raggiungi a 50 km orari, dicono che non ci sono frenate, quindi l'energia non è stata in alcun modo dissipata, è arrivata tutta in pieno. E questo è il primo problema, il primo problema sul quale dovremmo ragionare e il ritorno, forse sui miei contenuti, meno follower e non monetizzabili. Ma ragazzi un secondo il tempo di reazione, se qui non ci sono frenate non c'è ne stata nessuna, non c'è stata alcuna reazione, è un impatto violentissimo che arriva e distrugge tutto quello che trova e in questo caso la sfortuna ha voluto che colpisse questo bambino. La questione è papà, è certo che sono molto preoccupato, stiamo parlando di un canale YouTube con migliaia di iscritti e migliaia di visualizzazioni, da fatturato di migliaia di euro con la creazione di contenuti che adesso troviamo discutibili, perché è successo questo problema, diversamente non ce ne frega sostanzialmente, non ci interessano e le cose interessano quando succedono, perché ci pensiamo. E qualcuno fa retorica e dice che anche il politico di turno si mette a pensare a possibili punizioni particolari proprio perché è avvenuto il problema, ma signori non facciamo retorica perché è così che funziona. male, ci si pensa quando succede, nonostante si pensi che si sia riusciti ad arrivare a normare tutto, ma non è così. Il web è un mondo sconfinato di possibilità positive e negative. Di negativo certo vi è l'emulazione magari di situazioni anomale proposte da alcuni youtuber e quindi emulate dai nostri figli, quei figli che magari sono picchiati davanti a un tablet o a un cellulare perché si ha poco tempo per stare con loro o perché questa cosa è incontrollabile o perché non si riesce a fargli capire quale sia il discernimento tra le cose giuste e le cose moralmente sbagliate. E questo è un problema, è un problema di tutti, è un problema vostro, è un problema mio, bisogna sempre stare attenti e non voglio fare la morale, semplicemente attenti. Oggi però nello specifico poi si parla di persone, di ragazzi, senza sale in zucca probabilmente questo che passa come concetto e effettivamente insomma per i contenuti portati non saprei che altro aggiungere perché c'è poco, rimane poco se non delle scioccherie e ci preoccupiamo di questa cosa e diciamo l'incidente è avvenuto perché si fanno dei video mentre si guida, perché si cerca il limite estremo delle cose, è vero, sì avete ragione, forse è tutto qui la questione di questo incidente mortale. Eppure io faccio servizio da 30 anni e in questi 30 anni però ho visto parecchia gente morire sugli incidenti stradali, ma non c'erano degli youtuber e non c'erano le Lamborghini necessariamente, non c'erano per forza macchine potenti e allora io vi chiedo e in quelle situazioni quando il ragazzino non era allacciato ed è deceduto e quando quell'altro, il papà del ragazzino non era allacciato io l'ho trovato eiettato dal veicolo e le persone le ho viste morire dentro agli abitacoli, fuori e sulla strada, metà dentro e metà fuori e allora a questo punto vi chiedo e chiedo a tutti quanti come la vogliamo definire questa cosa, non siamo youtuber, abbiamo dei contenuti e dei valori più alti nella nostra vita ma non allacciamo magari i nostri figli messi dietro e guardate che se qualcuno non ci credesse gli basterebbe mettersi fuori da scuola quando escono i ragazzini, andate alle scuole medie e verificate quanti genitori allacciano i figli dietro, guardate che l'ultimo esperimento che ho fatto, 9 su 10 quelli che ho visto io, non allacciavano i figli dietro e non vi serve un impatto a 100 km orari per creare il danno, il danno di quelli dai quali non si può tornare indietro. La magistratura farà il suo corso, chi ha sbagliato paghi e paghi tutto il conto, ripeto c'è qualcuno che parla di mancata precedenza, ragazzi osservate i veicoli, lato anteriore destro per la Lamborghini e completamente laterale destro per la Smart, quindi c'è qualcosa che non coincide insomma con un'ipotetica dinamica, è successo qualcosa, un insieme di circostanze avverse, tutte quante sicuramente che si potevano evitare, così come si sarebbero potute evitare tutte quelle volte che ho visto intere famiglie distrutte ragazzi, distrutte per la stupidità, per la superficialità, perché siamo sempre di corsa, perché anche se io non lo giro questo video mentre sto girando con l'automobile e voglio raggiungere un limite estremo, ma sono lì che mi faccio i fatti miei e guardo questo telefono intanto che guido, è sempre un secondo il tempo di reazione come media e in quel secondo a 50 km orari ne ho percorsi 15 prima di reagire a un eventuale pericolo. Si dice che qualcuno era sotto effetto di cannabinoidi, probabilmente l'autista lo deciderà la magistratura se è realmente così, certo ancora peggio, ancora peggio perché a quel punto se già normalmente in buona salute il tempo di reazione è un secondo, figuriamoci se uno è sotto effetto di stupefacenti o di alcolici così come ho già visto in altre situazioni, ma rimane il fatto che quella è una categoria di persone che vanno a creare il problema in questa vita, ma ce ne sono altre meno sospettabili, che comunque non riescono a riflettere sulle proprie azioni e sono quelli per i quali poi arriva la tragedia familiare e dopo si piange, si vorrebbe tornare indietro e non si può tornare indietro, c'è una certa ignoranza in merito, una certa pericolosità a noi sconosciuta quando viaggiamo in auto o in moto, è su questo particolare che dobbiamo riflettere signori, vi ringrazio, buona serata.